benvenuti lopetti in questo nuovo episodio super mario bros wonder nello scorso episodio abbiamo cominciato a il deserto solleone e ha fatto una buona parte tutta la zona sotterranei c'è un'altra zona qua sotto e oggi faremo una buona parte del pezzo qua sopra ed è tutto ricominciare è orribile avete visto cosa è successo al nostro castello da quando è arrivato quel piccolo delinquente ho trovato paura ho troppa paura ad avvicinarmi una volta è circondato da tanta bella acqua fresca ci passavo e giornate a parlare con i miei amici e i miei pietari erano uno splendore adesso invece se ne starò buono buono qui finché quel piccolo delinquente non se ne sarà andato ok non ti preoccupare riparerò volentieri questo ponte o ma appassito come no come come sono aperto come sono non ho più energia ne che mi daresti qualche moneta fiore certo e tinte su pure 50 fantastico adesso posso riparare il ponte ora ci penso io ah ecco fatto riparato ora non si romperà più potete attraversarlo quando volete la cosa molto importante oggi dobbiamo fare quella sfida che c'è di sotto questo tutto questo più una cosa che per riparare acqua sopra c'è qualcosa qua per caso no o forse sì che posso incredibile non avrei mai immaginato di incontrare qualcuno qui non so se nemmeno non so nemmeno come ci sono finito in questo postaccio non ho paura no un capitano non ha mai paura non è così ah già ho qualcosa per voi tutto 50 momenti fiore spero vi siano utili nella vostra avventura una fortuna quindi alla fine ci dà le 50 a molte fiore che abbiamo usato per riparare il ponte allora vediamo un po perché qua non è che ci sia alla fine tanta roba da fare sarebbero 1 2 3 4 5 6 7 livelli forse anche 8 forse 4 c'è un negozio poplin vero sì nitro in giro ma io ho un debole per i simi meraviglia all'empo di poplin ci sono sempre la scatto rapido ti permette di muoverti e scattare un po più velocemente del solito persino sulla sabbia ok la prendiamo e ci prendiamo i fiore di meraviglia ben 3 no per due molte ok non voglio usare ci tornerò dopo la te devo perlomeno finire tutta questa zona qua quindi è tutto di cominciare con controllando qua che non ci dovrebbe più essere niente perché abbiamo già fatto questo livello qua la prima volta siamo venuti qua al deserto sul leone è venuto col gran salto da abbassati due difficoltà 4 lo dai ok se vediamo che funziona ok ho sbagliato allora mettiamoci qua e adesso allora ce n'è una lì sotto e ce n'è uno qua che ci serve per forza essere diciamo un personaggio ok ce la posso fare lo stesso un personaggio con almeno un fungo no 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 e non la voglio usare io sto con musica e salti bellissime queste roster dei vecchi giochi di mario ok stiamo sotto comprarci l'ultimo seme che c'era il negozio ok ottimo siamo anche a 24 semi adesso tutta questa zona qua dovrebbe essere fatta al 100% qua ci andremo nel prossimo episodio e andiamo tutto con livello piazza no facciamolo per ultimo quello lì aiutati lì come ci arrivo ci arrivo da sotto lo vedremo poi come ci arriviamo cominciamo con il vero primo livello quindi labirinto rosso e blu allora andiamo un po' lì c'è già una chiave ci ricordo qualcosa qua dentro qua a qualche parte no ok ecco c'è prima di fartuando la capa volevo solo controllare che non ci fosse non ci fosse stato niente ok ce l'ho fatta bellissimo il fatto che dal pulsante che schiacciamo cambia anche il colore del fiore la rossa a blu allora andiamo un po' là di sotto ci vado così no non ci credo l'ho lasciato allora vediamo un po' allora posso aprirmi la chiave allora qua c'è qualcosa attiviamolo al fiore me la via lo aggiungo così uh mario ombra da quanto tempo allora vediamo un po' posso fare questo tutto allora vediamo un po' ho 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 le monete viola. Allora, il vaso con l'acqua. Allora, magari poi mi sbaglio. Ma secondo me abbiamo mancato qua qualcosa. Allora. Allora, questa dimmi che è la... Ok, la seconda, no? Molto bene. Abbiamo mancato niente, allora. Allora, qua cosa abbiamo? Una porta con una chiave blu. La chiave blu la troverò qua da qualche parte. Eccola qua. Qua cosa c'è? Lì non c'è niente per il momento. Quindi noi possiamo andare poi qua sopra e entrare nella... Ah, non posso. Poi, io ho fatto il giro da sopra. Ok, quindi... Facciamo il giro da qua. Allora, qua c'è qualcosa. Per caso, no. Così liberiamo il passaggio lì. Allora, qua c'è l'uscita. E allora, quindi, l'ultima moneta viola deve essere quella a qualche parte. Ma il problema che ho adesso qua non posso più tornare, cavolo. Allora, qua c'è l'ultima. C'è l'abbiamo fatta, siamo usciti dal labirinto. Questo deserto è davvero pieno di misteri e di segreti. Oh, a proposito di segreti. Ho sentito che da queste parti è nascosta una spilla che ti fa andare più veloce. Eh, sì, dovremmo averla anche già presa, forse. Credo. Ah, no. No, forse non mi considero. La prendiamo dopo? Perché c'è ancora una sfida spilla. Ok, alla fine ci vediamo direttamente al punto di prima. Ok, dovremmo essere quasi arrivati al punto di prima. Ok, perfetto. Quindi si dovrebbe trovare qua a qualche parte l'ultima moneta viola. A me verrebbe da dire che si trova qua proprio... Allora, qui il vaso con l'acqua non c'è. Però... Dai, vieni fuori. Se io prendo questo... Mi dirigo qua con questo. Poi faccio così. Appare l'ultima moneta viola che mi manca. Ok, quindi se prendiamo solo più la chiave e abbiamo finito. Cavolo. E la chiave qua dov'era? Più avanti è possibile... Sì, eccola qua. Ecco lo che poi nel prossimo episodio faremo anche già il terzo livello del mondo speciale. No, il quarto livello del mondo speciale. Sì. Il buio rivelatore. Ok, tutti i livelli sono super veloci. Si dovrebbero fare in meno di un minuto. Ok, vediamo subito. Il fatto è che se volete vedere come raggiunge quello che c'è lì sotto Perchè quelli posso raggiungerlo solo come Sì, ora di qua c'è Capitan Todd, giusto, sì Ok, forse da passare qua Poi un attimo vedere così un attimo alla veloce O magari qua No Ok, ci arrivo da qua Sali sul palco Sali Sul palco Ok, così è meglio Sali 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 Che abbiamo fatto Super veloce Allora dobbiamo ancora fare più o meno due barattere livelli Qui cominciamo tutto con la casa di Spintarelli Pintarelli Ok, tanto non credo sia da far così Qua Qua non possiamo più fare niente E fine E fine Andiamo Dove c'è la porta Se riesco a schiacciarlo Ottimo Allora Allora Questo posso spingerlo di qua Poi Lì c'è qualcosa Ma non so ancora bene cosa Ok, c'è la porta Allora Allora Vediamo un attimo Io non posso spingere questo qua Io non posso spingere questo qua contro di qua Tanto non credo che più di così si possa fare nel senso Allora Spero sia quella secondaria giusta Allora qua dobbiamo riunire Ok Però qua mi fa andare di qua Perché C'è l'ultima moneta Viola Ottimo Oppure aver mancato il fiore maraviglia Ok Qua c'era anche un uscito da segaletta Qua c'è l'ultima Ok Ottimo Adesso facciamo Quello che doveva essere Diciamo l'uscita standard Più anche pendendo Il Cavolo Il fiore maraviglia Per ottenere poi Il Il fiore maraviglia Allora Così Qua Qua sappiamo già che c'è la Porta Ok Porta Il fiore maraviglia Cosa molto importante da dire Per quanto voi Provate a Cercare di spingere Questa qua Questa è la La statua di buzzword Non servirà a nulla Dovete spingere di qua Ok Vai di qua Cavolo Ed ecco qua Il seme maraviglia Questa è la E possiamo finalmente andare All'uscita standard E possiamo finalmente andare all'uscita standard Ok Allora Questa è l'indicione Se fare Qua anche questo qua Il rimbalzo Sui pallonelli Sì Facciamolo Dai Ma Devolupimi Onestamente La bolla Però Vabbè No 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 Cavolo Vabbè Però almeno La prima moneta Più l'abbiamo ottenuta No La trivella Dai Vero Ce l'ho già Ok Ho dovuto Troppo far di fretta Quindi Va bene Facciamo solo sta parte qua Tutta così Qua aspettiamo Adesso devo salire Lì sopra Seconda moneta stella Ottenuta Faccio il fiore Meraviglia Ok Saliamo Abbiamo già Ho recuperato Un bel po' Di queste monete Viola Tutte queste Quelle che abbiamo Speso Prima Ok Manca sempre Sarò più l'ultima E dammi Magari La bolla Se riesco Ottimo Ok Ho appena visto La moneta Viola Ok Perfetto Ora qua Ci sarà sicuramente La cima Ok Presa Ok Presa Ok Quindi Quella sfida Spirle invisibile La faremo nel prossimo episodio L'ultima cosa che faremo ancora oggi E' questa Arena Sul leone Nel frattempo Vi invito a mettere un mi piace Però non mi piace Iscrivervi al canale Ancora questa serie Esce ogni giorno Regularmente ore 14 15 30 17 E niente Allora Così Allora Posso colpirti Quella bolla In qualche modo No Ok Quindi ricominciamo Qui dove forza Fare Diciamo fare Ce la posso fare Dobbiamo fare Tutto quanto Diciamo Alla normalità Quindi tirare via Tutte le bende Ok Questo è fatto Ok Questo è fatto Un po' più Ben quattro stanze Da fare Vediamo un po' Come sono le prossime Molto bene Come sono le prossime Ok siamo a 71 Andiamo un po' come l'ultima Ok quindi Marta è il Koopa Vediamo un po' quanti sono i secondi necessari Ti prego dimmi che sono ce... Ok benissimo abbiamo fatto Quindi nel prossimo episodio di Super Mario Bros. Wonder Finiremo il mondo 4 Facendo anche il livello 4 del mondo speciale E niente vi saluto e vi aspetto poi in un prossimo episodio Ciao Lupetti